Incidente a Chiaveri muore 25enne e questa mattina l'incrocio tra via Orsi e via Chiesa scontro tra un'automobile e una moto a perdere la vita al giovane sul mezzo a due ruote. Val Cicchiero sollecitate le istituzioni, Elio Cunio sindaco di Correglia e consigliere metropolitano fa pressing sull'ex provincia, la minoranza San Colombano-Certeno li discuterà una mozione di sentimento. Domani c'è Vieto Sentella a Palermo, anticipo di Pasqua per la Serie B alle 20.30 al Comunale di Chiavari, sempre domani ma nel pomeriggio alle 15 si gioca anche in Serie D, Unione Sanremo-Lavagnese, Sesto Elevante-Rignanese. Buonasera dal TG Tiguglio, vi dobbiamo rendere conto di un incidente che è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Chiavari un incidente mortale, uno scontro tra un'automobile e una moto dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni in sella al mezzo a due ruote. Nella tarda mattinata di oggi all'incrocio tra via Chiesa e via Orsi a Chiavari si è verificato un incidente mortale. Nell'impatto tra un'automobile e la moto ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Simone Cantero, che era in sella al mezzo a due ruote. Sul posto l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde, ma purtroppo il ragazzo si è spento proprio a bordo dell'ambulanza che lo portava alla piazzola di San Salvatore di Cogorno, dove stava atterrando l'elicottero fatto partire da Genova. Sulla dinamica del sinistro la Polizia Municipale di Chiavari, che sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane apparteneva ad una famiglia molto conosciuta in città perché gestisce un distributore di benzina in corso dei Michiel. Questa mattina si è verificato un tamponamento sulla 12 in direzione Livorno tra Rapallo e Chiavari. Sul posto intervenuta l'automedica del servizio 118 per prestare le prime cura ad un uomo rimasto ferito e portato comunque il Codice Verde al pronto soccorso all'ospedale di Lavagna. Le sue condizioni, dato il colore del Codice Verde, non sono gravi. Durante le operazioni di soccorso si è formata ovviamente coda tra i caselli di Chiavari e Rapallo. Adesso torniamo a parlare della Frane in Val Cicchero. La regione si impegna alla ricerca di fondi per riaprire la strada. Intanto Elio Cunio, sindaco di Correglia Ligore e consigliere metropolitano, fa pressing alla città metropolitana. La minoranza invece a San Colombano e a Ceretenoli discuterà domani una mozione di sentimento. Elio Cunio, sindaco di Correglia Ligore e consigliere metropolitano, ha presentato una richiesta di informazioni in città metropolitana sui lavori non ancora partiti per mettere in sicurezza alla provinciale 42 di Romaggi. La strada, da circa 20 giorni, è chiusa per una Frane in località Maggiolo con notevoli problemi di isolamento per la Val Cicchero. La regione, ricordiamo, ha dato la propria disponibilità a coprire con fondi propri la somma necessaria ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del costone, circa 80.000 euro su un totale stimato di 93.000 euro, cui si arriverebbe però con il contributo dell'ex provincia. A riferirlo al consigliere regionale Claudio Muzio. I fondi delle accise della benzina, destinati agli interventi di messa in sicurezza del territorio, infatti sono disponibili solo a giugno. Lunedì, quindi, in regione si individuerà un'altra strada per reperire immediatamente i fondi necessari. Domani, intanto, il Consiglio Comunale di San Colombano-Ceretenoli discuterà in apertura di seduta una mozione di sentimento presentata dal gruppo di minoranza territorio e sviluppo, che chiede una rapida risposta da parte, appunto, della regione e della città metropolitana. Sono enti, afferma il capogruppo Claudio Solari, che si stanno rivelando inadeguati a garantire la sola viabilità alle popolazioni dell'entroterra. Nel corso della stessa seduta sarà anche discussa un'interpellanza in merito all'incrocio della provinciale 225 a Calvari, dove, alcuni giorni fa, ha perso la vita in un incidente mortale Mario De Barbieri. A Reco, i carabinieri, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato a piede libero per furto all'interno di residenza per anziani un 32enne gravato da pregiudizi di polizia. L'uomo, dipendente presso quel centro per anziani, durante il suo orario di lavoro, si introduceva all'interno di una stanza di un degente, asportando dall'interno un televisore del valore commerciale di 700 euro. La riflutiva è stata recuperata a seguito della perquisizione dell'abitazione. E adesso parliamo di politica, clima quasi disteso in consiglio comunale a Casazza a Santa Margherita Ligure. Il progetto del nuovo apporto presentato dalla Santa Venezia del Social, però, fa ancora discutere. I gruppi di minoranze insieme Santa nel Cuore, progetto per Santa, dopo il consiglio comunale di lunedì sera, parlano di un clima finalmente disteso e propositivo. In municipio si è discussa la mozione sul servizio di raccolta porta a porta, approvata all'unanimità, che prevede un piano di potenziamento del servizio informativo al cittadino, con l'impegno ad ascoltare e risolvere le criticità segnalate dai sanmagheritesi. Troviamo molto positiva la condivisione delle nostre istanze da parte della maggioranza, hanno affermato i due gruppi di minoranza. Ma sul progetto del nuovo apporto presentato dalla Santa Benessere Social, restano immutate le polemiche. Il consiglio comunale ha dato vita ad una commissione consigliare incaricata di seguire la pratica passo dopo passo. Per l'opposizione, però, il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, avrebbe sconfessato il dirigente affermando che una sola proroga è stata concessa e i tempi rispettati, mentre il consigliere comunale e il vicesindaco Emanuele Cozio sarebbe, sempre secondo insieme Santa nel cuore e il progetto per Santa, in perenne campagna elettorale. Cozio viene messo alla berlina per aver detto che la pratica è stata ereditata dalla precedente amministrazione comunale e, dunque, subita dall'attuale giunta. I carabinieri di Arenzano, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per atti persecutori un 55enne di Moneglia. L'uomo, nello scorso mese di dicembre, come accertato, al termine della sua relazione sentimentale con una 44enne che vive a Genova, la perseguitava con minacce telefoniche e anche SMS. La vittima è stata informata della possibilità di potersi rivolgersi ad un centro antiviolenza. Denunciato per aver colpito l'arbitro di Accia Setta Sottocollese al giocatore, oltre alla squalifica di due anni, ora è arrivata la denuncia da parte del direttore di gara. A seguito della denuncia a Querela, sporta dall'abitro Emanuele Coccoluto, 27 anni della sezione della Spezia, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali Daniele Porcella, 31enne giocatore della Sottocollese, squadra che milita in seconda categoria. I fatti erano venuti allo stadio Riboli di Lavagna lo scorso 4 novembre durante la partita tra i lavagnesi della Ciasetta e gli ospiti della Sottocollese, squadra di Davagna. La gara, valida per l'ottava giornata di campionato, era stata sospesa sul 2-1 per i padroni di casa al dodicesimo del secondo tempo, perché Porcella aveva colpito l'arbitro dopo essere stato espulso. Il direttore di gara aveva riportato lesioni giudicate e guaribili in pochi giorni. Al giocatore della Sottocollese, oltre ad una squalifica fino al 31 dicembre del 2019, combinata dal giudice sportivo, ora è arrivata anche la denuncia. Marilena Burzoni è stata eletta presidente del CIV Icarugi di Sestri Levante. È anche consigliere dell'Ascom e prende il posto di Emiliano Bixio, che non si poteva ricandidare essendo già al secondo mandato. Bixio in ogni caso resta nel consiglio direttivo con la carica di vicepresidente. Nel consiglio entrano anche Laura Santini, Fabio Attimonelli e Andrea Righetti. Insieme confermati Daniela Zanetti e Alessandro Riccomini. Il CIV preannuncia che ci saranno nuove iniziative in futuro e conferma la manifestazione Notte Rosa, che quest'anno celebrerà la sua nona edizione. E adesso siamo al calcio, orgoglioso di essere il primo bianco celeste ad avere giocato in una nazionale maggiore. Così Aligi, intervistato da Lullacu. E domani torna anche, oltre alla Serie B, con la partita comunale di Chiavari tra Vietro Sentella e Palermo. C'è anche la Serie D, dove nel pomeriggio si disputeranno Unione Sanremo-Lavagnese e Sestri Levante-Rignanese. Però andiamo a vedere come si sta preparando la Vietro Sentella per la partita contro il Palermo. Nasser, il primo giocatore delenetella, ad avere giocator in una nazionale maggiore. Nasser, a je i pori lejtor qe ka lujet një nazionale e kometare e sashtuot modhe? Si in di n'viten? Si... Q'far me n'timi ki? Mi chummi lomtur se pese... Pono all jume the Shqiptareth, a sh një ndrë për me lujt për e kometaren Shqiptareth. Pese po si se ne o Shqiptareth nuk ka gjoj ma t'mir'. Molto felice di essere il primo giocatore che gioca in una nazionale maggiore dell'Entella ed molto felice perché per noi albanesi ho un sogno giocare nella nazionale e lo stesso spera di fare bene anche qui con l'Entella Si penin veti in questo caso, con l'Entella? E' molto felice che l'anno accolto tutti molto bene a parte il fatto che magari non riesce a capirsi molto bene con i compagni per il fatto che non tutti parlano l'inglese ma pian pianino sta iniziando a imparare anche lui l'italiano poi sono io che lo aiuto a tradurre per le cose quindi è molto felice di fare parte di questo gruppo e di questa società Per noi è una partita difficile, siamo in un periodo molto buono però attraversiamo un momento molto buono e siamo una squadra che ce la possiamo giocare con tutte le altre Marco Alessandrini, sindaco di Pescara Oggi per questo incontro le città unite del Tiguglio Lei porta con sé un'esperienza in questo senso? Ma io porto con me l'esperienza del mio Abruzzo in cui un referendum consultivo ha portato alla discussione di un disegno di legge regionale volto alla fusione fra tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore E' un processo che al momento è, come dire, sospeso visto che il legislatore regionale credo che lo dovrà calendarizzare nel futuro prossimo e questa è stata l'occasione per riflettere da un lato sulle rivalità territoriali e sul campanile però dall'altro anche con l'ambizione di avere respiro lungo e pensiero appunto lungo sul fatto che oggi la pubblica amministrazione deve fare massa critica e i comuni devono, superando i campanilismi, mettersi insieme per erogare servizi che siano all'altezza delle aspettative dei cittadini, più economici e maggiormente efficienti per fare questo bisogna appunto fare la lunga marcia della unione dei comuni in cui alla necessità di allineare le procedure amministrative e le situazioni contabili finanziarie di ciascun ente locale credo debba anche esserci appunto quel pensiero lungo cui facevo scennò prima in grado di superare quei campanili che troppo spesso zavorlano la competitività del nostro sistema territoriale suppongo in Abruzzo come in Liguria Su quali entità avete ragionato? Che comuni sono questi coinvolti? I comuni coinvolti sono comuni rilevanti perché Pescara ha 120.000 abitanti Monte Silvano che confina con Pescara ne ha 50.000 e Spoltore ne ha circa 20.000 quindi parliamo di un monte complessivo di 190.000 persone e questo però ti dà anche il senso che poiché gli amministratori non vogliono rendere più complicata la vita e i cittadini è necessario che noi sappiamo prima dove andiamo a parare in qualche modo il senso di questo confronto mi sembra proprio questo cioè la necessità che noi esattamente come faremmo se fossimo in un'azienda privata dobbiamo prima fare una due diligence dei conti dobbiamo vedere com'è lo stato dell'arte insomma dal personale alle poste creditorie attive e passive con la situazione finanziaria in genere per poi poter fare questo grande salto in avanti dei servizi resi insieme La politica come ha reagito? La politica ha reagito evocando sovente il campanile in alcuni casi anche rievocando addirittura attenzioni regionaliste legate al capoluogo di regione sepolte dal dibattito di 40 anni fa però io penso che la sfida sia soprattutto culturale sia soprattutto culturale perché qui non si tratta di rinfocolare vecchie questioni ma cercare di dare risposte nuove ai bisogni dei cittadini che sono sempre maggiori e credo che non ci sia un'alternativa a fare massa critica ho usato anche prima questa espressione perché io sono da quasi 4 anni sindaco sono perfettamente consapevole che i comuni hanno sempre meno risorse mentre i bisogni delle persone aumentano di più e poiché i miracoli li fa solo Harry Potter e con che bisogna mettersi insieme e cercare di fare quella massa critica in grado di dare risposte più immediate ai bisogni crescenti dei nostri amministrati Io penso che il senso è che io trago spunto per esempio dalle questioni che afferiscono ai rifiuti alle aziende pubbliche che si occupano di queste robe che magari fanno un po' sorridere però è decisivo affinché i cittadini possano pagare meno perché noi vogliamo, come tutti gli amministratori, hanno il desiderio di abbassare le tasse però non si può fare con un tratto di pen bisogna fare in modo che il costo del servizio sia più basso Per fare questo è necessario mettersi insieme è necessario puntare sugli impianti è un ragionamento che noi stiamo facendo in Abruzzo consapevole che ovunque ci sono le rivendicazioni territoriali di quanti non vogliono determinati impianti ma poiché non parliamo di inceneritori ma di quelle che ormai vengono chiamate fabbriche del riciclo cioè luoghi dove si tratta la plastica per intenderci piuttosto che il vetro ecco che vale la pena mettersi in marcia perché significa poter poi alla fine mandare bollette più bassi ai cittadini e stesso discorso si può fare per, non so, le politiche ambientali troppo spesso vediamo che città lineari che sono a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro adottano politiche differenti allora credo che sia una cosa buona e giusta quella di mettersi insieme anche da questo punto di vista Il processo è in questo momento congelato quello che so però è che il Comune di Pescara è l'unico fra i tre comuni coinvolti che si è pronunciato ai sensi della legge regionale di settore ha dato un parere positivo all'Unione dei Comuni ha indicato anche una scadenza che il primo gennaio 2022 perché è necessario fare delle cose nel frattempo e oggi ne parliamo per evitare sostanzialmente che si ripeta la questione delle province che dovevano scomparire ma ci sono ancora e purtroppo finché continua ad essere qualcuno dovrà occuparsi per rimanere alle province delle strade piuttosto che delle scuole e allo stesso modo prima che parte un'operazione complessa di ingegneria istituzionale è bene mettere a regime tutta una serie di tasselli Marco Bucci, sindaco di Città Metropolitana e sindaco di Genova oggi si parla delle città unite del Tiguglio ma l'unione dei comuni è già un argomento che in provincia di Genova e in Città Metropolitana ha già avuto alcuni risconti Sì certo, l'unione dei comuni non vuol dire unione amministrativa vuol dire soprattutto unione di risorse e unione di intenti per trovare risorse comuni che siano in grado di dare il miglior servizio al cittadino ricordiamoci che tutte le volte che riusciamo a fare 1 più 1 uguale 2,5 facciamo un servizio per tutti quindi pensiamo a tutti i servizi dai trasporti all'acqua alle rifiuti eccetera sono tutte cose che possono essere gestite in maniera più allargata e quindi avere quell'effetto massa che consente di avere un risparmio nei costi Un altro urlo di dolore che la Liguria ogni tanto fa è quello che riguarda le infrastrutture Certo, le infrastrutture in Liguria veniamo da circa 30 anni di sotto investimenti quindi dobbiamo recuperare in poco tempo tutto quello che non abbiamo fatto fino adesso e anzi dobbiamo fare ancora di più per metterci alla linea per arrivare a livello guida soprattutto le altre regioni noi vogliamo essere i migliori per cui dobbiamo avere le infrastrutture di prima classe È dalla piazza di Zoagli che ha una storia abbastanza recente che incontriamo il sindaco Franco Rocca una piazza che non era un punto di aggregazione per questa città e neppure un punto storico era semplicemente un parcheggio quando ha deciso che Zoagli si doveva adottare di una piazza come punto di riferimento ed incontro? È una piazza che è venuta dopo il bombardamento perché sulla superficie della piazza c'erano anche delle case con il bombardamento e la distruzione naturalmente hanno previsto di fare una piazza era una piazza percorsa da mezzi macchine, moto e mi è venuta l'idea e c'è venuta l'idea di renderla un centro di aggregazione per rendere un centro di aggregazione bisogna levare le auto La valenza di una piazza in un comune in una comunità a cosa serve una piazza? Una piazza serve per un centro di incontro se ci sono delle manifestazioni da fare dove si fanno sulla piazza e a prescindere, forse ti ricordi quando venne battiato la manoia l'idea nacque proprio da quella esigenza di aggregare le persone anche della periferia e delle frazioni di portarli in piazza dove i mille di zoagli insieme ai 3, 4, 5 mila persone che venivano da Genova o dai comuni limitrofi si aggregavano diciamo in piazza a zoagli In una realtà così piccola se vogliamo dire quantomeno relativamente al centro di zoagli quante persone lei incontra sulla piazza e quante invece ne vengono su in comune? Allora, io sono più per una visibilità per un lavoro sicuramente in piazza se ne incontra di più ma anche forse senza un progetto di incontro Quanto è importante sentire l'umore della piazza per un sindaco? È importante è importante naturalmente in piazza nasce oltre che la programmazione oltre che il problema vero delle volte delle volte si diciamo respira anche un po' di polemica e la polemica non è mai fine a se stessa ossia delle volte si protesta per una cosa che magari è una cosa provvisoria oppure è una banalità è un sentito dire ecco previsioni per domani giovedì 29 marzo cielo generalmente molto nuvoloso o coperto ovunque al mattino dal pomeriggio apertura sull'imperiese e savonese precipitazioni deboli localmente moderate a carattere di rovescio principalmente concentrati nel pomeriggio lungo le zone interne genovesi e spezzine venti deboli da est e sud est al mattino decisa rotazione ed intensificazione da sud ovest e dal pomeriggio mare molto mosso le temperature previste sulla costa tra 9 e 15 gradi nell'entotera tra 2 e 13 gradi grazie a tutti grazie a tutti